Bongo raga, nuovissimo vlog! Allora, questo è l'ultimo di questa settimana, ve lo dico subito perché oggi torniamo a Milano, abbiamo fatto tutte le nostre cose e stamani ho riportato la macchina. La macchina che abbiamo noleggioato, ma ne ho approfittato perché qua ho tutto per la macchina nuova, ho comprato la macchina nuova alla fine. Ce l'abbiamo fatto, ho preso la Polo. Che Polo ho preso? Ora qui c'è scritto modello Polo, sesta serie 1.0 DSG, quindi con cambio automatico, Edition Plus. Ok, tutti questi vlog, tutti questi vlog io ho pagato qualcosa. È stata molto onerosa, è stata molto costosa, devo dire. Però, boh, tempo, allora mi ha detto lui, il tipo, mi ha detto tempo due mesi a regola, se riusciamo ce l'avrai. Se no, sei mesi. Ora, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, mi sembra un po' tanto, sei mesi, no? Forse ho detto quattro perché avevo fatto i calcoli che mi sarebbe arrivata agosto e ho detto ad agosto è un po' impossibile. Quindi, se tutto va bene, a fine maggio, devo ritornare a ritirarla. Se no, a settembre, penso. Ok, non so perché ci voglio sì tanto, ma mi ha detto solo per crearla ci voglianza di settimane nel caso. Però a regola ce ne dovrebbe essere un'altra, basta cambiargli colore, ci si mette tutto, tutto quello lì. Vabbè, fatto sta. Abbiamo smacchina, finalmente. Tutto quello che dovevo fare questa settimana l'ho fatto. Ho già preparato la valigia, ora tra un po' pranzo con Babbo. Ho salutato tutti quelli che dovevo salutare. Ieri sera poi ho portato il regalo al mio amico, la Nintendo DS, quella che gli avevo preso. Super, super contentissimo. Mi ha mandato poi un messaggio, grazie, grazie, non dovevi, ma te lo meriti, carino. Così, quindi sono contento. E nulla, dobbiamo partire adesso. Direi che possiamo andare, salutato Babbo, andato al lavoro. Io ho tutta questa robina qua da portare alla stazione per prendere i treni. E possiamo salutare la Toscana. Facciamo tutto il viaggio di ritorno, poi a Milano chiacchieriamo un po', anche perché bisogna fare un attimo il punto della situazione. In treno inizio a contare quanto ho speso anche in totale per le uova di Pasqua quest'anno, se ci ho guadagnato qualcosa, se ci ho perso. Parliamo di un po' di robe perché li leggo anche i vostri commenti dei vlog. E l'unica cosa è che sono senza chewing gum. Raga, l'ho finite e boh. Allora, rispondo subito, facciamo così, alla prima polemica, perché molti si sono lamentati del fatto che spesso quando sono in giro parlo con il chewing gum, che non è molto educato, diciamo così. Sembra un po' una drenzola, ok? C'è un motivo, io non è che mangio le chewing gum perché mi piace parlare così, mi dà noia anche a me e lo so, siamo d'accordo. Ma, come ben sapete, ho dei problemi di ansia, anche se ultimamente sono un po' migliorati o comunque spariscono, ci sono sempre, raga. E uno dei modi che ho per la mia testa, per farmi pensare che va tutto bene e mi fa un attimo calmare, è masticare le chewing gum. Quindi, quando mi vedete con la chewing gum, soprattutto fuori casa, è perché appunto mi mette sotto controllo la mia ansia. Non perché voglio fare il maleducato, però c'è un motivo. E ora, detto questo, andiamo verso la stazione piano piano, se no, perdo il treno, ho fatto tutto e andiamo a Firenze. Oh vai, si parte subito bene. Il mio treno, l'unico, in ritardo di 25 minuti. Benissimo. Aspettiamo. Non bisogna fare altro. I minuti di ritardo alla fine erano 40, raga. Ora dovrebbe arrivare e a regola arriviamo a Firenze giusto giusto per prendere il freccia rossa, sperando che sia in ritardo anche l'altro a questo punto. Eccolo. Ah, tra le altre cose, il biglietto, non ho fatto il check-in perché non me l'hanno fatto fare. Speriamo. Ancora prendo la multa. Ci sono, eh? Firenze ci sono. Devo stare così perché c'è il filo, però ci sono. E a me questo non è in ritardo. Andiamo. Che culo! Che culo! Oh, non mi sembra vero! Badde, sono le sette? Ma ce l'ho fatta, eh. Siamo arrivati. Bella la fine. Beh, sì, dipende. Sai quando se ne accordi che l'Italia è bella? Quando vai all'estero e poi dici, vabbè, ma l'Italia però non è brutta, va. Ah, sì, ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta. Ci siamo. Finalmente. A casa. Ok, raki. Ladri non sono venuti. Dove è il terrazzo? Se me l'ha portato via perché mi avete detto che c'è stata una mega grandine, un mega casino qui a Milano in questi giorni. Apriamo anche un po' tutto, cambiamo aria. Oh, casino. Casino. Casino, casino. Oh, no. Oh, perfetta. Ah, che mi avete raccontato. Nulla mi avete raccontato. Le boiate. Comunque, vi devo dire l'Uber è stato molto simpatico, molto cordiale, molto carino. Oh, e mi ha svoltato praticamente il viaggio perché io stavo pesda in treno. Allora, io devo fare adesso una piccola polemica. Probabilmente mi offenderete, non lo so, però io lo devo fare. Allora, già che devo prendere il frecciarossa dopo un altro treno, dopo un altro viaggio incredibile con Trenitalia. E va benissimo. Se io pago di più il biglietto perché voglio andare nell'aria silenzio, le persone che ci devono venire devono stare zitte perché quella è l'aria silenzio. Anche loro hanno scelto l'aria silenzio. Non mi puoi mettere, non puoi metterti davanti a me e poi stare al telefono e siccome hai le cuffie, urli, perché io mi incavolo. Siamo nell'aria silenzio. Se sei al telefono, vai nell'altra carrozza, stai un attimo fuori. È l'aria silenzio. L'hai scelta anche te. Quando l'hai scelta, l'hai pagata per far silenzio, non per parlare. E soprattutto, quando arrivano le persone che lavorano sul treno, che ti offrono comunque il pacchettino per bere o ti chiedono se hai bisogno di qualcosa, considerali, amore mio della zia. Dì sempre grazie, dì per favore, guardali negli occhi invece di far finta che siano invisibili. Perché a me la maleducazione mi dà noia. Soprattutto se arriva da delle persone che sono adulte ma sono comunque giovani. Mi dà molta noia. E quindi sono stato tutto il viaggio del treno così, imparanoiato, perché mi dava noia, mi dava uggia a sta roba. E quindi questo Uber molto simpatico, si è chiacchierato tanto, ma De Maio mi ha detto ma sei tornato alle manze di Pasqua? Sì, l'ha presa un po' comoda. E io ho detto, vabbè, ma ero in Toscana, ero a casa mia, vado a fare delle osse. E lui mi ha fatto, ma sei toscano, ma di... E mi ha detto il paese. E gli ho fatto, sì, perché? Ho fatto perché non sei il primo, oggi sei già il secondo dalla Toscana che mi viene da lì. E gli ho fatto, oh, cosa? Non è che c'è un me di un'altra epoca, di un altro squarcia temporale che è venuto qua? Ma vabbè, lasciamo perdere. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Veniamo a noi. Il sacchetto è arrivato a casa, un po', diciamo, in condizioni non ottimali, però dobbiamo vedere se la roba all'interno è salva e per roba all'interno intendo la mia borraccetta. perché alla fine ci avevo messo dentro anche la felpa e c'è la nostra... Oh, guardatela lì, carina, spilling the tea, mi sa che domani vi metterò uno spilling the tea. E ecco il nostro bomberino che nel vlog che vi ho pubblicato del Demol, oh, mi è piaciuto tantissimo, eh. Io adoro Grandi. non pensavo che potessimo avere i soliti gusti io e voi, anche perché mi offendete quasi sempre, come ne avete offeso per questo, che mi avete detto, ma Cristiano, ma praticamente è una cosa inutile, che spesa è inutile. Non è inutile, raga. Gli spilling the tea non si fanno da soli e bisogna essere un po' fashion. Ora, questo lo possiamo poi buttare via. Ma ho visto che mi è arrivato anche un pacco, che in realtà sarebbe stato per Pasqua. Vedete, questo qua, Wine Livery. Dobbiamo vedere velocissimamente che cosa c'è all'interno. Cosa ne vede? Un uovo di Pasqua ancora? Sentore di pesca, mela verde e acacia. Al palato è fresco, leggero e armonico, perfetto per l'aperitivo. Uovo di vino? No, questo lo dovevo aprire su TikTok, raga. Vabbè, guardiamo. Meglio tardi che mai. Eh, sarà una bottiglia. Oh, ma sì. Oh! Brilla Prosecco Doc. Bella la bottiglia, raga. Guardate, tutta sbrilluccicosa. Ma che carino. Questa ora appena arriva Mark, subito si sboccia. Grazie, Wine Livery. Grazie, che carino. Lo amo. Brilla Prosecco. Si chiama proprio Brilla. Bello. Vi farò sapere poi se è anche buono. Ora, mi sistemo un attimo e per sistemare mi lavo le mani, mi do una rinfrescata in bagno un po' così. E poi ci riuniamo per parlare, perché non me ne sono dimenticato. Eccoci qua, raga, tornate in patria nel mio ufficio. Allora, una promessa è una promessa. Quindi dovevo andare. Ho studiato, eh, in treno. Andiamo. Finalmente è arrivato il momento di dirvi quanto ho speso quest'anno per le uova di Pasqua e quanto ci ho guadagnato e facciamo poi il confronto con il 2023, con il 2022 e con il 2021. Allora, c'è da dire che rispetto agli altri anni non c'è stato il guadagno su TikTok, che anche se comunque erano poche decine di euro, comunque c'erano. E quindi ho tolto quelle anche negli anni precedenti. Facciamo quindi un riepilogo velocivissimo di quanto ho speso, di quanto ho guadagnato negli anni soltanto con i video su YouTube delle uova di Pasqua. Iniziamo. Nel 2021 io feci 7 video sulle uova di Pasqua. Non so quanto ho speso, perché non me lo ricordo, e perché nei video all'epoca non dicevo la spesa di tutte le uova, ma nel 2021 io guadagnai, lordo, si parla di soldi lordi, quindi poi bisogna toglierci le tasse e tutto quanto, 1949,78 euro 2021. Arriviamo al 2022. Nel 2022 ho fatto più video rispetto ai 7 dell'anno prima, perché ne ho fatti 11. La spesa è stata di 822,30 euro, sono pazzo, e ho guadagnato nel 2022, meno del 2021, 1.867,43 euro. L'anno scorso, arriviamo all'anno scorso, l'anno scorso io ho fatto 11 video, anche lì, ho speso meno rispetto al 2022, perché nel 2023 la spesa totale delle uova di Pasqua era su per giù 699,98 euro, e il guadagno si era rialzato, però comunque era sempre 1980 euro. Quest'anno, non so quanti video ho fatto io sulle uova di Pasqua, aspetta, perché quest'anno 1 mi sembrava meno, 1, 2, ne ho fatti 2, 2, ma perché non l'ho contato prima? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne ho fatti 9, quindi 2 in meno rispetto all'anno scorso, agli anni precedenti, la spesa è leggermente aumentata, perché ho speso quest'anno 716,81 euro, ma i guadagni, ragazzi, qua ora si ragiona. Ho guadagnato quest'anno, grazie ai video delle uova di Pasqua, ripeto, lordo, 2.844,87 euro, fino a questo momento. È aumentato di più di 1.000 euro rispetto agli anni passati, perché mi è andato letteralmente virale il video sulle uova di Pasqua a grandi firme, che è stato il video più visto, non solo tra tutte le uova di Pasqua, che è tipo a 170.000 views, ma è stato il video più visto del mio canale da Temptation Island, da un falò di confronto. Quindi, per tutte le persone che mi hanno ripetuto, ma la smetti con questo spacchettamento delle uova di Pasqua, non interessa a nessuno, hai 30 anni e ne ho 18, tra le altre cose, smettila di fare queste cose, becere, che interessa solo te, poi ti lamenti. Sono i video più di successo di tutto il 2024, per il momento, superando addirittura Spilling the Tea di Fedez e Chiara, molto spesso. Quindi, concludendo questo breve discorso, io sono molto soddisfatto di queste uova di Pasqua, e soprattutto per la scelta che vi ho portato, perché, rispetto anche agli anni passati, ho deciso di non portare CNAM, di non portare Baci Perugina, Lind, non portare Novi, queste qua, perché comunque sono sempre le stesse, e all'interno ci sono sempre, diciamo, cioccolatini. E quindi, volevo spendere meno per guadagnare di più, è stato un bel successo, ragazzi. Grazie, grazie mille, grazie a tutti, ci devo pagare le tasse, ovviamente, quindi non è tutto oro quel che luccica, però, chiusa, adesso, la questione, diciamo, uova di Pasqua, fino al prossimo anno, un se ne parla più, anzi, per tutti quelli che poi mi continuano a dire, ma che ne fai di tutta la cioccolata, avete visto, ho portato un bel sacchettone in Toscana, quindi ora qua, mi è rimasto un altro sacchetto, e poi ho un po' suddiviso in varie ciotole, della cioccolata, che darò mano a mano ai miei amici, mano a mano a Mark, che se la porta a lavoro, se la porta a due di pare. Fatto sta, mi sono anche scritto degli argomentini, perché, se no, me ne dimenticavo tutti, e ne voglio parlare un attimo con voi. Ormai ci sono prima di cena, almeno ne parliamo. Allora, progetto macchina, grazie di consigli, raga, però, come avete ben visto stamani, siamo andati a riportare la mia golf, che avevo, che ho avuto per questa settimana in Toscana, e ne ho approfittato per chiedere dell'Apolo, perché io con il Bibabbo, dal sito ufficiale, avevo fatto tutto il preventivo, avevo scelto il mio modello, quello con tutti gli optional, il colore, le varie cose, siamo andati lì, se ho chiesto, l'ho comprata, ok? Bene. Ho la macchina, ufficialmente mi arriverà, non si sa quando, tra due mesi, speriamo, però, boh, incrociamo le dita, al massimo a settembre, speriamo prima, ma arriva la macchina nuova, ok? Quindi, mi sa che dovremmo poi fare un vlog, più in là, quando arriverà, che torniamo in Toscana a ritirarla, così scoprirete, che colore, quale ho usato, vi dico già, ho preso quella, tutti gli optional, ce l'ho messi tutti, ma è costata praticamente, quanto la Jeep, e quindi potevo comprare la Jeep, alla fine, però sono molto contento, e molto soddisfatto, vedremo poi, se la porterò qua, ora non penso, perché, il box auto, in questa casa, c'era, ma io, l'ho tolto, quando ho andato via Diego, perché tanto, spendevo i soldi, inutilmente, per averlo, e non lo usavo, quindi, a lasciarla all'aperto, nuova, no, la userò, quando starò in Toscana, ma, non vi preoccupate, perché in Toscana, ci sarò, molto più spesso, rispetto agli altri anni, perché, appunto, poi c'è, vi ho portato insieme a me, e vi ho fatto vedere la casa, c'è il progetto casa, ristrutturamento della casa, allora, ho letto tutti i vostri commenti, tutti che mi avete scritto, a maggior ragione, Cristiano, ma non lo vedi, quando sei in Toscana, come sei contento, come sei felice, come sei rilassato, hai tutto lì, i tuoi amici, le tue amicizie, poi vedi di lì, la casa di là, la macchina di là, avete ragione, anche quando dite, ma perché un torno in Toscana, allora, ci ho pensato, anche in questa settimana, e, anche se l'obiettivo, più in là nel tempo, magari quando sarò un po' più anzianotto, quando smetterò di fare i video, perché nessuno mi guarderà più, ho intenzione di tornare in Toscana, però, io voglio, al momento, per questo periodo, per questi anni, ancora, poi magari cambierà tutto, però, per il momento, la mia idea è questa, avere una base qui in Milano, perché, vuoi o non vuoi, è vero che Milano è un po' così, me ne lamento molto di Milano, ultimamente, però, ho trovato, diciamo, la mia strada, ok, ma, diciamocela tutta, c'è Mark, ok, quindi, anche volendo, non posso, cioè, è innegabile che non torno in Toscana, perché, se no, come faccio, con un'eventuale relazione a distanza, Mark, è una grande, percentuale, no, che mi ha fatto decidere, di rimanere qua, poi, quando mi lascerà, o quando, e se lo lascerò, ritornerò in Toscana, sicuramente, perché, sicuramente, voi sapete, che quando io finisco, una storia d'amore importante, devo cambiare aria, come sono scappato, dalla Toscana, per dimenticare un amore, mi sa che poi, riscapperò anche da Milano, ritornando in Toscana, per dimenticare un amore, ma, non ce la gufiamo, facciamo le corna, fatto sta che, il, la questione, Mark, Caltagirone, tra le altre cose, fatemi sapere, se volete lo spilindetì, su Pamela Prati, perché, è chiusa, è ora la questione, Mark, Caltagirone, della truffa, non truffa, delle denunce, ho letto, però, mi sembrava una cosa un po' così, se lo volete, fatemelo sapere, facciamo uno spilindetì veloce, con tutto il riassuntino, anche perché, il momento, Mark Caltagirone 2019, è stato il momento più bello, del gossip italiano, di questi ultimi anni, sono già passati 5 anni, vabbè, comunque, stavo dicendo, Mark, è una questione che, devo dire, ha avuto molto peso, no, nel mio dire, no, rimango a Milano, anche perché, appunto, voglio stare con lui, ok, e quindi, non vi nego, che forse, se non ci fosse stato lui, probabilmente, sarei stato più propenso, a tornare in Toscana, ma, non è la sola questione, Mark, perché, se no, poi lì, non metti caso, che si guarda sto video, gli metto un peso sulla coscienza, a Dione, Mark, ovviamente, è il mio fidanzato, sta qui, e quindi, io voglio stare con lui, e quindi, sto qua, ma non è l'unica cosa, Milano, alla fine, vuoi o non vuoi, mi dà molto, perché, anche, è vero che mi dà ansia, mi dà inquinamento, mi dà spese di affitto, che in Toscana non avrei, e molte cose, ma, al tempo stesso, mi dà libertà, libertà di fare tutto quello che voglio, idee, anche magari, ora, è vero che i video, ultimamente, li sto facendo sempre in casa, ma, quello è per la mia ansia, non c'entra nulla, con Milano, però, è molto più, cosmopolita, se voglio fare una cosa, so che a Milano c'è, se, voglio andare dall'altra parte di Milano, è vero che non ci andrò mai, perché comunque, trovo i mezzi, o con il Uber, ci metto comunque mezz'ora, però, so che posso farlo, ci sono negozi, ragazzi, e soprattutto, vivo da solo, ok, non ho il mio babbo, o comunque i miei genitori, che, è una cosa, che sembra una cosa brutta, ma in realtà, dopo un po' che te vivi da solo, io, amo ovviamente il mio babbo, amo ovviamente la mia nonna, ma, il fatto di stare, so io, ai loro orari, perché, sono in casa con loro, sono in casa col mio babbo, in questo, in questo caso, e quindi, dobbiamo mangiare, quando lui mangia, dobbiamo cenare, quando lui cena, e non quando voglio io, il fatto che, so di non essere solo in casa, e quindi non ho i miei spazi, mmm, anche questo, ha giocato tanto, sulla mia decisione, di rimanere a Milano, ancora per un po', ma, come vi ho già detto, c'è la questione casa, la questione casa, sarà un progetto, lungo, me l'avete già detto, Cristiano, preparati, perché non è che ora, te lo fa così, e tra tre mesi, ce l'avrai pronta, soprattutto, se la vuoi rifà tutta, ma avete anche consigliato, di rifare il bagno, nello stesso momento, in cui sto rifacendo l'altro, le cose, perché se no, viene un casino, mi avete consigliato bene, grazie, però, diciamo, sono già al corrente, del fatto che, ristrutturare casa, soprattutto, volendola, come la voglio io, che è diversa, da come la vorrebbe, e mi babbo, però, la casa è mia, decido io, alla fine, ci litigherò un po', però, io ce l'ho già in mente, un progetto, perché lui vorrebbe, semplicemente rifare, come vi ho già detto, i pavimenti, alcuni, nemmeno tutti, gli infissi, cambiare mobili, rifare la cucina, e il ciaone, io in realtà, vorrei, abbattere qualche muro, ok? Vorrei, per esempio, ora, allora, io ve lo dico, sì, poi non so, effettivamente, al momento, se posso farlo, oppure no, perché poi, comunque, io, ora, ho detto a mio babbo, che io sono risalito qui a Milano, a Milano, gli ho detto, fammi avere la piantina della casa, perché ho intenzione, magari, di contattare, non lo so, un architetto, ora non so, ancora, devo studiarci bene, perché gli voglio dire, a una persona, una professionista, ovviamente, di farmi un progettino della casa, dandogli delle idee, per esempio, nella camera, che io voglio far diventare camera dal letto, avete visto che poi accanto c'è un ripostiglio, io il ripostiglio vorrei toglierlo, perché ci vorrei fare un bagno in camera, per esempio, o un altro esempio, che ho un'idea, avete visto quel mega corridoio, che prima le case vecchie avevano, erano tutte fatte così, mega corridoio, e poi camere, 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 voglio capire, se è fattibile, magari, distruggerlo, nel senso, è brutto, io non voglio avere tutto quel corridoio, che sembra un tunnel, voglio vedere se, buttando giù un muro, boh, alzando un altro, non so, se si può fare una cosa, una casa, un po' più, magari, nuova, un po' più moderna, e vediamo, ce l'ho un po' di idee, però, io vi posso parlare così a caso, no, perché ho in mente di fa quello, in mente di quell'altro, però, mi serve una, una mano di un esperto, che ci sappia capire tutto, e quindi, a me babbo, gli ho detto, te, chiama le sue conoscenze, fatti di super giù preventivi, quanto mi costa, fa quello, questo e quell'altro, ma, nel frattempo, mandami il prima possibile, la piantina della casa, perché io, poi, da qui, magari, ho qualche conoscenza, e, mi posso far dire, cosa posso fare, e cosa non posso fare, o se, alla fine, mi, mi bastava comprarne una nuova, direttamente, perché magari, andrò a spendere tantissimi soldi, ma, il progetto casa c'è, è iniziato, ma, sarà una cosa lunga, e quindi, diciamo che, nella mia mente c'è, non torno in Toscana, fino a quando la mia casa è pronta, ok, non è pronta, quindi, ci vorranno degli anni, quindi, in quest'anno, succederanno, tantissime cose nuove, chissà, possiamo cambiare idea prima, possiamo cambiare idea dopo, non si sa, fatto sta, che questo è quello, che mi è successo in Toscana, doveva essere, una vacanza, dovevano essere, sette giorni di, oh, non faccio nulla, mi riposo, e così, poi, ritorno, no, su YouTube, al meglio, con la mente tutta, libera, per pensare, esclusivamente, a voi, in realtà, sono tornato più esaurito di prima, però, insomma, mi piace questo mio nuovo fatto, no, che, sto facendo dei progetti, no, della vita, e, da grandi, sono adulto, madonna, e qui, ne approfitto, per rispondere a chi mi ha scritto, nel vlog, e video all, dove, ovviamente, come ogni sei mesi, vi ho portato con me, al demol, rispondo, velocemente, alle persone che mi hanno detto, e mi hanno scritto, Cristiano, alla tua età, dovresti un po', smetterla di spendere soldi, e scialacquarli investiti, pensa a robe più serie, oppure, adesso che hai da fare la nasa, da fare la macchina, smettila di cosa ha vestiti, avete ragione, ragazzi, ma se io faccio una spesa, la spesa è preventivata, se ho comprato quelle cose, significa che, potevo, ok, e poi, ancora non ho, tutte le fatture, dei lavori di casa, non ho, ancora l'idea di quanto mi può costare la casa, appena mi arriveranno tutti i preventivi, state sicuri che non rideremo più, non andremo più dal demol, probabilmente, a meno che, non iniziate tutti a guardare i vlog, e quindi, forse possiamo fare entrambe le ose, o magari, non lo so, scavolini, Ikea, qualcuno, qualcuno che voglia fare una collaborazione, insieme a me, con la casa, cioè, mi mandate una cucina, no, gratis, e io vi faccio tutti i video che volete, della costruzione, della scelta, di commedia, tranquilla, lo fanno tutti gli influencer, anzi, che non fanno nemmeno video, ma che fanno le foto su Instagram, come mai, nessuno è venuto a scrivermi, un'email cristiano, te la paghiamo noi, vabbè, non si sa mai, vediamo, vediamo, comunque, o nel caso sordi ci sono, fortunatamente, mi pago tutto, facciamo piano piano, ma, la casa arriverà, non si sa quando, ma arriverà, adesso, raga, basta, che ore sono, dobbiamo andare a mangiare, ma ce l'ho le osse da mangiare, andiamo a vedere, comunque, vi dico, alla fine, sono contento di questa settimana, sono contento di com'è andata, mancava solo Mark, però, vabbè, ci penseremo a lui, eh, raga, lo sto bacchettando, non vi preoccupa, se vediamo un po', ora, andiamo a vedere il frigorifero, se mi è rimasto qualcosa, che non è scaduto, perché io ho una fame, sbarello, okidoki, allora, un po' di roba e ce l'ho, eh, quindi, ci facciamo un po' di tortellini, perché scadono domani, e poi, ho ancora uno stracchino, che mi scade, tra tre giorni, incredibilmente, c'ho un po' di formaggi, sì, qualcosa faremo, affettati, roba varia, va bene, va bene, possiamo ciorare, la cosa era già fatta, sì, era già fatta, perfetto, e buon appetito a tutti, e buona cioena, mi guardo pacchi, e inizio a editare un po' il video, insomma, siamo tornati alla stessa routine, raga, ed eccoci qua, raga, siamo arrivati alla fine, anche di questo vlog, allora, al domani, non so cosa vi pubblico, perché, sono in alto mare, probabilmente, sto pensando a uno, spilanzi, mai fatto prima, quindi, non parliamo di Chiara e Fedez, non vi preoccupate, però, devo un attimo organizzare, questa settimana, questi prossimi giorni, ma la settimana toscana termina qua, io vi ringrazio, per chi è stato con me, vi ringrazio, per chi ha commentato questi vlog, vi ringrazio, per chi ha messo mi piace, in questi vlog, ovviamente, e per oggi è tutto, fatemi sapere, come sempre, anche quello che pensate, riguardante tutto quello, che ho detto oggi, ci vediamo domani, con un nuovissimo video, ciao, ciao,